Bambini positivi al Covid che arrivano al pronto soccorso, altri ospedalizzati. Il Covid arriva prima del vaccino in tutto l'agro Sarnese e Nocerino. Diversi bambini nella fascia di età 5-11 anni che in attesa di essere vaccinati, già prenotati in piattaforma, si sono contagiati ed il Covid corre tra i banchi di scuole ed ancora la scia è lunga per i contatti che si sono avuti nei giorni precedenti alla chiusura degli istituti scolastici per le festività natalizie. Sono centinaia le famiglie in quarantena in sorveglianza attiva con la variante Omicron intercettata in diversi casi. Nell'ultima settimana tra Scafati ed Angri si sono registrati 20 bimbi positivi con sintomatologia che sono dovuti ricorrere alle cure ospedaliere. Contagi anche tra i neonati, probabilmente legati a contatti familiari, proprio nei giorni del 24 e 25 dicembre. A Sarno negli ultimi due giorni sono arrivati in pronto soccorso due bimbi, uno di quasi un anno l'altro di appena 28 giorni. Il più piccolo è stato trasferito in nottata al Santo Bono.